4 panetti di cocaina per un totale di oltre 3 kg nascosti in un sacchetto di stoffa pieno di caffè. È quanto hanno trovato i militari della Guardia di Finanza nella valigia di uno spagnolo a bordo di un treno Eurosity proveniente da Zurigo e diretto a Milano. Il controllo è scattato alla Stazione Internazionale di Chiasso in collaborazione con i funzionari doganali. L'uomo, un 52enne, a una prima domanda dei finanzieri, ha spiegato di avere con sé, oltre agli effetti personali, qualche kg di caffè. E in effetti nel suo bagaglio, controllato dai militari, c'era un sacchetto di stoffa pieno di caffè sfuso, assieme a 4 panetti di cocaina avvolti nel cellofan. In tutto 3.080 grammi per un valore complessivo, una volta diviso in dosi e immesso sul mercato dello spaccio, compreso tra 500.000 e 1 milione di euro. La scelta del caffè, spesso usato per sviare l'olfatto dei cani antidroga, non è dunque bastata. L'uomo è stato arrestato per traffico internazionale di stupefacenti e portato al bassone. Il 52enne è già stato interrogato e il giudice ha disposto la permanenza in carcere. I finanzieri, oltre alla droga, hanno sequestrato due cellulari e due carte di credito. Proseguono le indagini per individuare eventuali complici. I finanzieri, oltre alla droga, hanno sequestrato due proprietà di stupefacenti e portato al bassone. I finanzieri, oltre alla droga, hanno sequestrato due proprietà di stupefacenti e portato al bassone.